5 i sernini sono stati tratti in arresto dai carabinieri per traffico di stupefacenti, cocaina, eroina e crack tra le sostanze illegali cedute anche a giovani studenti. Dopo due mesi e mezzo di arresti domiciliari, l'imprenditore molisano Franco Sassano è tornato in libertà, la revoca della misura cautelare giunta dalla Capitale. Decisa opposizione al progetto di riqualificazione del centro cittadino di Termoli, i comitati civici chiamano a raccolta i residenti, domani consiglio comunale. Le finali nazionali giovanili di basket in carrozzina si svolgeranno sabato e domenica a Campobasso, si sfideranno sotto i tabelloni Padova, Roma, Bologna e Cantù. Buon pomeriggio gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca giudiziaria, il nostro telegiornale Nuclei specializzati dei carabinieri e le unità cinofile hanno smantellato un clan di spacciatori residenti nella città di Isernia, custodia cautelare per 5 giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Traffico di sostanze stupefacenti dal Lazio alla provincia di Isernia. Agli arresti sono finite 5 persone residenti nel capoluogo Pentro, su ordine del Tribunale di Via Kennedy. Sono stati carabinieri a smantellare l'attività criminale dedita allo spaccio di eroina, cocaina, crack, ascisce e marijuana. In cella è finito il 35enne Franco Sarachella. Agli arresti domiciliari invece Filomena Gennarelli, Cristian Sarachella, Maria Biondi e Filomena Spada. Sono indagini che hanno avuto avvio verso il novembre del 2016, sono conclusi a metà dell'anno trascorso. Nel corso di queste indagini abbiamo potuto apurare come in Isernia che fossero un gruppo di persone che sono state oggi ristrette quattro agli arresti domiciliari e una agli arresti in carcere che era dedita a uno spaccio al minuto di sostanze stupefacenti di ogni genere. In parole povere vendevano un sacco di porcherie, perché la droga è porcheria, che consisteva in crack, cocaina, eroina e anche le cosiddette droghe leggere, che poi tanto leggere non lo sono. E questa è la testimonianza di un commercio, di un traffico che sebbene non abbia dimensioni quantitative molto rilevanti, comunque è significativo in una realtà come quella di Isernia. E quindi oggi abbiamo posto fine a questa attività e nel corso delle perquisizioni, in una in particolare, i carabinieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e diverse dosi di marijuana, ciò a testimonianza dell'attualità e della continuità delle attività di spaccio che venivano svolte da questo gruppo di persone. La droga abbiamo riscontro che venisse prelevata nella zona di Ostia e poi condotta nel territorio Pentro, qui a Isernia. Attraverso i viaggi che per motivi anche di natura familiare svolgevano queste persone ricongiungendosi e i loro parenti. Gli arrestati si rifornivano di considerevoli quantitativi di droga nella zona del Lido di Ostia, tra i molti acquirenti e anche insospettabili studenti degli istituti scolastici di Isernia. Torna in libertà l'imprenditore Franco Sassano, settore caseario, la sua attività, dopo 77 giorni di arresti domiciliari. I giudici del Tribunale di Roma hanno disposto la revoca della misura cautelare, era accusato di riciclaggio internazionale di danaro ed evasione fiscale, ma Sassano si è sempre dichiarato, estraneo ai fatti, minuzioso il lavoro dei legali principe e coppi che hanno ricostruito i bilanci degli ultimi quattro anni di attività del caseificio al centro dell'indagine della Procura romana. Cambiamo argomento, cresce il divario tra nord e sud del Paese, un'ulteriore conferma arriva dal Ministero dell'Economia che evidenzia un calo dei redditi delle famiglie e delle regioni del Mezzogiorno, il Molise con un reddito medio stimato in poco più di 16.000 euro e tra le regioni più povere d'Italia. Il reddito medio degli italiani ha attraversato la crisi economica crescendo poco più di 2.000 euro in otto anni. Nel 2008 era di 18.870 euro, nel 2016 si è attestato invece a 20.940 euro con un incremento medio dell'11%, una crescita registrata in presenza di un significativo calo del numero delle dichiarazioni dei redditi presentate. Nel periodo considerato, il numero di contribuenti che fa i conti con il fisco è sceso di oltre un milione, passando da 41,5 milioni a 40,3 milioni, con un decremento del 2,9%. Nello stesso periodo, il reddito complessivo è aumentato di 60 milioni di euro, passando da 782 miliardi a 843 miliardi, con un incremento del 7,7%. I dati contenuti nelle tabelle del Ministero dell'Economia sulle dichiarazioni dei redditi del 2009 e 2016 mostrano che il gap tra il nord e il sud del paese non accenna a diminuire e che le disuguaglianze crescenti nel mezzogiorno saranno il primo problema con il quale il prossimo Governo nazionale dovrà necessariamente confrontarsi. La Calabria è la regione maglia nera con i redditi più bassi d'Italia. Anche il Molise, con un reddito medio stimato di 16.030 euro, risulta essere tra le regioni più povere d'Italia, ad accompagnarla con dati simili la Puglia, la Sicilia e la Basilicata. Le differenze tra il nord e il sud del paese si notano anche quando si vanno a leggere i dati sul numero di soggetti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi, che Lombardia è diminuito solo dell'1%, mentre al sud si arriva a una riduzione che supera il 6%. Un ventenne emaliano è stato identificato dagli agenti della questura di Isernia, quale responsabile del tentativo di aggressione avvenuto alcune sere fa nei confronti di una giovane donna del capoluogo di provincia. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima. La donna nel rientrare a casa, nonostante fosse stata immobilizzata, è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto, facendo fuggire l'aggressore. Il comitato referendario e il coordinamento no tunnel di Termoli chiamano i cittadini a partecipare al Consiglio Comunale di domani per ribadire la ferma opposizione a quello che definiscono il grande scempio della cittadina adriatica. Vediamo il contributo. Continua in perterrito il percorso che vede nettamente divisi una gran parte di cittadini e il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, e i suoi sostenitori in Consiglio Comunale. Tutto nel segno del famigerato tunnel, l'opera che ha già prodotto una montagna di obiezioni popolari, la costituzione di un vero e proprio comitato che si oppone con ogni forza e la respinta tra mille polemiche e ritardi nelle comunicazioni ufficiali dei quesiti referendari che volevano chiamare alla partecipazione diretta nei modi della consultazione dei cittadini per conoscere almeno la loro opinione in merito alla realizzazione o meno dell'opera. Questo è davvero tanto altro ancora, compreso alcune decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella vicenda del tunnel, che domani tornerà nell'ambito istituzionale del Consiglio Comunale di Termoli, convocato dalle ore 10 con un unico punto all'ordine del giorno, quello che riguarda l'adozione del provvedimento di variante al piano regolatore generale, variante che è assolutamente necessaria per realizzare l'opera. E questa è la trovata per evitare perfino gli interventi critici dei consiglieri comunali, in quanto l'amministrazione comunale considera la determina di chiusura della conferenza dei servizi, la costituzione automatica di validità ufficiale di variante. Una situazione che spinge gli aderenti del comitato referendario e i soggetti del coordinamento non tunnel ad invitare tutti i cittadini di Termoli, ai quali è stato impedito l'espressione delle loro opinioni, attraverso i referendum consultivi in merito, a partecipare in massa ai lavori del Consiglio Comunale di domani, al fine di far sentire la loro contrarietà a quello che più volte è stato definito il grande scempio. Intanto, tutti i soggetti contrari all'opera con la vicinanza del Movimento 5 Stelle e della Fibba con Fesercenti, dichiarano di essere pronti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'intero progetto di riqualificazione urbana del centro della cittadina adriatica, tutto in direzione di un'azione che, come dichiarano, non si ferma. Faremo ricorso a tutti gli strumenti che la giustizia amministrativa, penale e condabile ci mette a disposizione. Riguardo all'appello dei comitati a partecipare al Consiglio Municipale di domani a Termoli, interviene Marcella Stumpo del coordinamento no tunnel da tempo oppositrice del progetto di riqualificazione del centro. Domani il Consiglio Comunale è convocato alle 10 cioè in un orario in cui ovviamente a pochi cittadini sarà possibile partecipare che deve soltanto formalmente ratificare la variante di piano regolatore perché non ha potere né di modificarla né di discuterla solo approvarla o bocciarla perché è stata scelta questa forma diciamo abbreviata che impedisce ai cittadini di presentare osservazioni quindi anche qui lo scopo palese è quello di togliere ai cittadini qualunque forma di partecipazione ieri sera c'è stata questa conferenza stampa del consigliere Di Michele con i rappresentanti del comitato no tunnel e con gli avvocati che presenteranno anche quelli della Feder Consumatori che presenteranno il ricorso quindi questo sarà il nostro prossimo passo avanti dal punto di vista diciamo del calpestamento della democrazia ricordiamo ancora una volta l'ultimo scandalo cioè gli 83 giorni durante i quali la decisione della commissione referendaria di bocciare i quesiti è stata tenuta accuratamente nascosta offendendo profondamente i cittadini io ho parlato con diverse persone non particolarmente presenti durante la lotta ma che mi hanno detto ci sentiamo offesi da questa presa in giro quindi quello che dispiace di più in tutta questa storia è la volontà costante ribadita di agire senza consultare i cittadini su una questione che va a mutare profondamente il volto della città quindi il rifiuto di qualunque condivisione un'arroganza del potere che veramente non abbiamo mai visto almeno io nei miei 33 anni ormai di vita a Termoli non avevo mai visto a questi livelli l'amministrazione sicuramente si mostra fiduciosa dopo lo scandaloso pronunciamento del Consiglio dei Ministri è arrivato veramente a bocce ferme da parte di un governo già privo di qualsiasi potestà legislativa loro sono ovviamente trionfanti noi siamo altrettanto fiduciosi che la partita si possa ancora chiudere in maniera diversa se il Tar vorrà riconoscere i fondati motivi che ieri sono stati presentati in conferenza stampa e che sono di attengono a diversi punti sia formali che strettamente diciamo giuridici di rispetto della legge perché quest'iter dal suo inizio ha calpestato qualunque legge ci auguriamo non è mai bello augurarsi che una vicenda venga chiusa nelle aule giudiziari ma dato che tutti gli spazi di democrazia sono stati chiusi riteniamo che sia nostro dovere nei confronti dei cittadini che ci hanno sostenuti per correre anche questa strada tra la diocesi di Isernia e l'azienda sanitaria regionale è stato siglato un accordo per l'utilizzo dei locali dell'ex seminario di via Mazzini al fine di ospitare ad Isernia i servizi sanitari e la facoltà di scienze infermieristiche dell'università la sapienza di Roma siamo alle vicende politiche domenica gli elettori eleggeranno il nuovo presidente della giunta i componenti del consiglio regionale sulla base di un nuovo sistema elettorale sentiamo le principali novità domenica 22 aprile gli elettori molisani saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della giunta regionale e i componenti del nuovo consiglio regionale i seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 il molise unica regione in cui si andrà al voto il 22 aprile eleggerà i componenti del consiglio regionale con un nuovo sistema elettorale che prevede la presenza di un collegio unico del premio di maggioranza a chi ha ottenuto più voti e l'eliminazione del listino maggioritario oltre che del voto disgiunto i candidati presidenti sono Donato Toma per il centrodestra Carlo Veneziale per il centrosinistra Andrea Greco per il Movimento 5 Stelle e Agostino Di Giacomo per Casa Pound la soglia di sbarramento per le coalizioni sarà dell'8% e del 3% per le singole liste ammesse tracciando il segno X su una lista il voto si estenderà anche al candidato presidente ad essa collegato oppure si potrà tracciare la X sul candidato presidente e su una delle liste ad esso collegate per esprimere il voto di preferenza invece l'elettore dovrà scrivere il cognome o nome e cognome in caso di omonimia di uno o di due candidati della lista votata si possono esprimere due preferenze ma devono essere obbligatoriamente di genere diverso altrimenti la seconda preferenza verrà considerata nulla ultimi appuntamenti con i big della politica nazionale in vista delle elezioni di domenica oggi alle ore 19 l'arrivo a campo basso del ministro alle politiche agricole Maurizio Martina a sostegno del centro-sinistra domani atteso invece l'arrivo della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a sostegno del centro-destra venerdì alle 21.30 in piazza Celestino V a Isernia l'europarlamentale Laffaele Fitto chiuderà la campagna elettorale della lista Iorio per il Molise l'ambito territoriale e sociale di Termoli lancia due iniziative in favore delle persone svantaggiate e famiglie in difficoltà che risiedono nel territorio di competenza dell'ente l'ambito territoriale e sociale di Termoli lancia due bandi rivolti a soggetti svantaggiati la prima misura riguarda nello specifico i tirocini di reinserimento per persone che si trovino a vivere in una condizione di esclusione sociale o che siano soggette a dipendenza la seconda misura denominata Progetto Linus per il sostegno alla natalità è rivolta invece a donne che vivono in situazioni di vulnerabilità economica determinata da condizioni quali ad esempio reddito problematiche sociali abitative lavorative sanitarie rivolgendo una specifica attenzione alla gravidanza e dal percorso relativo alla nascita in particolare di donne sole e ragazze minorenni l'aiuto consiste nell'erogazione di un contributo economico di 2000 euro diviso in quattro rate trimestrali i dettagli in questa intervista da Antonio Russo l'obiettivo è il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo di persone che sono ai margi della società misure che sono rivolte innanzitutto alle persone che sono in carico presso i CERT dell'ASREM di Termoli quindi persone affette da dipendenze dipendenze in senso lato tutte le dipendenze che sono riconosciute tali dalle disposizioni legislative vigenti e poi sono rivolte anche a persone soggetti che non sono più in carico presso l'ASREM ma che sono uscite dal percorso ma che non siano trascorsi più di 12 mesi da quando hanno lasciato il percorso medico sanitario presso il CERT dell'ambito territoriale di Termoli poi abbiamo un altro progetto interessante che è l'INUS è un progetto rivolto alle donne ci sono una serie di indicazioni di prescrizioni nel progetto però la cosa importante da sapere è che destinatari sono soprattutto le donne sole le donne che vivono in un momento anche di difficoltà economica quindi c'è un contributo che è un sostegno alla posizione reddituale il sostegno va quindi alle donne che hanno una posizione reddituale molto bassa e donne quindi che hanno o in stato di gravidanza o che hanno appartorito ma che non siano trascorsi più di un anno e dobbiamo dobbiamo anche dire in questo caso che gli elementi che contraddistingueranno la gradatoria saranno soprattutto due mi ripeto la posizione reddituale e anche la fascia di età bassa abbiamo con un monitoraggio dell'ufficio di piano di Termoli dell'ATS Termoli anche indicazioni di donne che hanno partorito o che sono accompagnate con bimbi neonati ma che sono anche al di sotto dei 18 anni di età quindi questa è la missura del progetto Linus il bando invece l'altro che scade il 30 il progetto dei tirocini da ricordare vi chiedo di divulgare scade il 30 aprile i tirocini di inserimento nel tessuto sociale e lavorativo il bando invece Linus rivolto alle donne in stato di gravidanza scade il 15 maggio del 2018 fare impresa scoperta e valorizzazione dei sapori molisani la presentazione del progetto ci sarà nel pomeriggio di oggi al liceo Romita del capoluogo il progetto si inserisce in un percorso di alternanza scuola lavoro a Dublino in Irlanda saranno interessati nelle prossime settimane 15 studenti del liceo scientifico di via Facchinetti la bellezza del mondo classico la lezione tenuta dall'esperto Piero Boitani questa sera alle 18.30 al teatro Savoia di Campobasso un evento culturale che rientra nelle manifestazioni della quarta edizione di Poietica ed adesso come ogni giorno spazio al meteo schiarite diffuse dal pomeriggio di oggi sul Molise e temperature comprese tra gli 11 gradi di Campobasso e la massima di 19 a Disernia dalla sera cielo poco nuvoloso ventilazione da nord-est quasi calmo si presenta il mare Adriatico sulla regione domattina tornerà il sole valori climatici in aumento venti settentrionali per la prima volta in Molise le finali scudetto under 22 di basket in carrozzina la carmes nazionale a Campobasso in questo fine settimana vediamo la finale scudetto nazionale della pallacanestro giovanile in carrozzina si svolgerà quest'anno in Molise un'esperienza nuova ed entusiasmante per la prima volta in regione si affronteranno società cestistiche del calibro di Bologna Cantù Padova e Roma sabato 21 le semifinali e domenica 22 invece si svolgeranno le finali teatro della manifestazione sarà il palazzetto dell'Ateneo a Campobasso oggi la presentazione è curata dalla federazione italiana pallacanestro in carrozzina è per noi una grandissima opportunità innanzitutto riuscire a organizzare una manifestazione nazionale di questo spessore alla quale la federazione italiana pallacanestro in carrozzina rivolge la massima attenzione e sicuramente per noi è un motivo di vanto è un onore ma anche un onore perché da questa manifestazione da questa attenzione noi vorremmo poter anche noi nel nostro piccolo Molise seppur abbiamo una squadra di serie B che milita nel campionato di serie B a Termoli vorremmo poter sviluppare ancora questo settore perché è per una per lo sport della disabilità per un disabilito motorio credo che sia una delle attività più gratificanti che esistono è la prima volta che il Molise ospita una manifestazione del genere credo la più importante di quest'anno e quindi significa che la federazione centrale nazionale riconosce noi da fiducia e per quello ci segue con attenzione durante l'anno e noi riusciamo a esprimere questo cioè una forza di squadra uno spirito che ci consente di organizzare al meglio queste manifestazioni ripeto il presidente Zappile ci teneva ci ha dato grosse opportunità sono due volte che viene nel Molise è rimasto sorpreso e speriamo che Campobasso risponda per quanto la manifestazione richiede interesse e mi riferisco alle partite che si disputeranno al Palaunimo la partita da sabato 21 pomeriggio a partita dalle 3 e mezza la prima partita poi l'altra semifinale alle 5 e mezza poi le finali il domenica mattina e quindi io colgo l'occasione di queste mitelle per fare un appello un richiamo ai genitori di portare i propri figli per il messaggio che questi ragazzi riescono al di là della partita e del sano agonismo che riescono a esprimere però è un messaggio che va oltre il canestro realizzato la partita vinta e quindi mi auguro che gli spalti del Palaunimo siano pieni di gente e dimostriamo ancora l'accoglienza che il Campobassano e il Molisano riesce a dare in queste manifestazioni e proseguiamo con la Pala Canestro per il secondo anno consecutivo a pro dalle fasi finali dei campionati nazionali universitari il Cus Molise la selezione ha battuto nel doppio confronto di qualificazione il Cus Potenza il traguardo raggiunto è importante per tutto il movimento cestistico locale passiamo invece adesso al calcio a Ripalimosani il derby femminile di Serie C contro il Trivento al comunale di Via Acqua Santianni finisce 2 a 1 per le ospiti con una rete molto contestata ad una manciata di minuti dal triplice fischio finale il Ripalimosani passa sul campo di Trivento e si aggiudica il derby di ritorno nel campionato femminile di Serie C fino a quel momento la contessa era stata giocata con agonismo ma sostanziale fair play dalle due formazioni della regione inserite nel girone abruzzese le trignine di mister Antonio Amore in divisa giallo-blu passavano inaspettatamente in vantaggio dopo la mezz'ora con la Rossi su azione d'angolo di Capitan Stinziani sul tramonto della prima frazione le ospiti si facevano minacciose con la frizzante venezuelana Zeolla che coglieva il legno della porta difesa dalla Caserio nella ripresa su errore del portiere di casa la Nolasco manda la sfera direttamente al lato il pareggio del ripalimosani di Silverio Bottone nell'aria e giunge puntuale al diciottesimo con la neoentrata Cristofano il trivento arranca ed è costretto ad abbassare il baricentro affidandosi in avanti alla sola di Gregorio la svolta definitiva al minuto 36 la parla greco indovina una traiettoria beffarda che si stampa sulla traversa e ritorna sul terreno di gioco tra le braccia della Caserio per il fischietto termolese Grittano fino a quel momento ineccepibile nelle scelte la sfera ha superato la linea di porta tra le vibranti proteste di tutta la squadra di casa ne faranno le spese con il cartellino rosso a testa prima la punta di Claudio e a stretto giro di posta il portiere Caserio in inferiorità numerica e sbilanciate nel vano assalto finale il Trivento rischia il tracollo negli istanti di recupero ma le attaccanti ripesi Caruso e Zeolla non infieriscono con i tre punti Ripalimosani sale al terzo posto alle spalle dell'Audax Palmoli e del Bellante in attesa di incontrare la capolista domenica 22 rimane fermo a 16 punti il Trivento con il rammarico di non aver conquistato dal derby neanche un punto ho visto una partita un po' complessa perché da ambo i lati noi abbiamo avuto difficoltà rispetto ad altre prestazioni in campo un po' difficoltose abbiamo avuto veramente difficoltà è una cosa un po' insolita visto anche i risultati del campionato e tutto il trascorso l'episodio del vantaggio è stato un episodio brutto perché è antisportivo ovviamente vedere queste scene di questa gravità perché poi insomma i toni si esasperano più del dovuto quindi dispiace sempre noi ovviamente ci fidiamo della decisione dell'albitro era gol non possiamo dare diversamente perché era molto difficile e complessa da verificare quindi ci affidiamo a lui siamo fiduciosi al fatto che fosse gol spero che queste situazioni non si verifichino in futuro in altre competizioni di qualsiasi natura poi auguriamo un buon proseguimento anche al Trivento come squadra e un in bocca a luco a noi che stiamo dando l'anima per questo campionato un derby è sempre un derby esattamente noi abbiamo avuto sempre difficoltà e anche scontri accesi sempre siamo toni un po' così qui al Trivento perché è ovvio è un derby e allora c'è molta più pressione tensione e voglia di vincere e vabbè è andata così che difficoltà ci sono per due sole formazioni molissane inserite in un girone abruzzese allora la difficoltà è che noi siamo ospiti fondamentalmente di un campionato abruzzese e quindi diciamo che ci può essere sempre questa piccola differenza che ci mette un po' un attimino da parte può essere noi in molti casi la notiamo però cerchiamo comunque di andare avanti e di non farla pesare comunque di andare avanti con coraggio perché non è il primo anno che giochiamo in Abruzzo e quindi è una realtà che c'è è un dato di fatto però vabbè andiamo avanti siamo in chiusura la società ciclistica Molise Tourbike ottiene importanti conferme nella Marathon del Salento seconda tappa del campionato circuito dei parchi naturali Iana Cone ha chiuso la gara con un 32esimo posto assoluto e quinto di categoria 45esimo posto e terzo di categoria per Bettini oltre 1.100 i partenti nella corsa in provincia di Lecce con questa notizia è tutto grazie per l'attenzione e risentirci a questa sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti